Cari ascoltatori, B-Radio presenta Cucina Fai da Te Ciao a tutti, io sono Mattia e sono qui per presentare il nuovo programma di cucina messo in atto da B-Radio in cui vi mostrerò alcune mie personali ricette Questo antipasto sarà formato da i tortei de patate che è una ricetta tipicamente trentina dal sapore molto neutro e appunto abbinabile a formaggi, salumi e anche alcuni tipi di marmellata quindi senza perderci in chiacchiere iniziamo subito con gli ingredienti qui abbiamo un chilo di patate da sbucciare della farina di semola, sale e olio per free questa è la mia versione iniziamo subito lavando accuratamente le patate e sbucciandole e con una grattugia a maglie larghe andiamo a grattugiare le patate una volta grattugiate le patate andiamo a mettere in un colino a maglie strette per far scolare il liquido di vegetazione, le lasciamo così per 30 minuti ora in una ciotola aggiungiamo le patate grattugiate scolate il sale il pepe e mescoliamo per bene e se le patate risulteranno leggermente di colore mattone vuol dire che si sono ossidate tranquilli, non ci fa niente e aggiungere anche la farina e continuare a mescolare per bene l'impasto è pronto, ho aggiunto un altro po' d'acqua perché se ne asciugate troppo e un altro po' di farina allora ho messo a scaldare l'olio mi raccomando per una cottura uniforme bisogna che ci sia almeno un dito di grasso l'olio è bollente, andiamo a fare gli tortei e li faccio andare per 3 minuti in modo tale che si formi una crosticina e poi li giro altri 3 minuti e poi dovrebbero essere pronti oppure vi regolate in base ai vostri gusti passati i 3 minuti possiamo andare a girarli delicatamente intanto che i tortei cuociono mi vado a preparare un piatto con della carta assorbente i tortei sono pronti andiamo a mettere su carta assorbente i nostri tortei sono pronti sono croccanti fuori e morbidi dentro quindi l'antipasto è finito come ho già detto sono buonissimi accompagnati da formaggi, salumi e anche qualche marmellata questo è tutto noi ci vediamo in un prossimo video la prossima settimana e ciao ciao e oggi andrò a fare una ricetta piuttosto semplice che saranno delle pizzette di polenta quindi gli ingredienti sono 300 grammi di polenta abbramata un litro e due di acqua e mozzarella e passata di pomodoro quanto basta la passata di pomodoro l'ho condita con origano, olio, sale e anche un po' d'aglio fresco e quando l'acqua sarà per bollire poniamo la farina a pioggia e nel frattempo mescoliamo ho aggiunto tutta la farina di mais e ora mescoliamo finché non sarà cotto mi sono trasferito su un fornello più freddo e ora la lascio intiepidire per un bel po' ok la polenta si è raffreddata ora andiamo a scartarla e ora andiamo a tagliarlo a fettine di circa un centimetro placca da forno carta da forno ho disposto le fette così e ora le andiamo a condire salsa di pomodoro mozzarella o provoletta scelta inforniamo sforniamo eccole pronte infiattiamo e decoriamo con un po' di origono noi ci vediamo in un prossimo video grazie a tutti la